Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians, io sono Splash ed oggi vi porto il recap dello streaming su Twitch da parte di Bungie direttamente dalla Gamescom. Lo streaming di Bungie si è principalmente focalizzato sul multiplayer, mostrando in grande quantità la nuova modalità supremazia, molto simile ad uccisione confermata di Call of Duty. In questa modalità dovremo uccidere i guardiani nemici e recuperare un engramma che cadrà al suolo una volta morti. Facendo questo otterremo due punti, uno per l'uccisione e uno per la conferma. Se non riusciremo noi stessi a prenderlo potrà comunque essere raccolto da un nostro compagno che quindi prenderà il nostro punto. Sono state mostrate anche due nuove mappe, una ispirata al giardino nero, molto molto bella e una molto più tecnologica. Tutte e due davvero carine comunque, più la prima per mio gusto sinceramente. Altra novità importantissima invece saranno le partite private che finalmente verranno introdotte. Potremo fare un match 6 contro 6 scegliendo la mappa, la modalità come ad esempio Inferno nel quale a sua volta potremo scegliere se fare, non lo so, supremazia, controllo o altro. Altre opzioni disponibili saranno quelle del punteggio massimo da raggiungere per vincere una partita, quindi potremo ad esempio mettere su supremazia 150 o 300 punti o altre opzioni. Il livello di luce minimo per poter partecipare se vogliamo metterlo oppure no, possiamo anche disabilitarlo e quindi far entrare qualunque guardiano. Possiamo anche inserire il tempo per concludere la partita e per alcune mappe saranno anche utilizzabili i veicoli. Ad esempio hanno mostrato la prima mappa di Destiny, quella dell'Alpha sulla Luna, dove appunto saranno abilitabili. Di default però non ci saranno. Qui inserisco anche una mia opinione personale, ovvero che probabilmente in queste partite private non si potranno concludere nessuna taglia del crogiolo, per ovvi motivi direi. Comunque sono davvero contentissimo per questo annuncio perché è veramente qualcosa di fantastico che aspettavamo da molto molto tempo, sia io che Shanks. Questi due ragazzi diciamo che erano gli annunci più importanti per quanto riguarda l'intero streaming. Poi abbiamo comunque potuto vedere tanto altro in nuovi set dello standardo di ferro e di Osiride in tutta la loro interezza. Qualche arma nuova, anche esotica, a quanto pare ad esempio ci saranno anche gli shader per le armi e ce ne saranno due disponibili per ogni arma. Così come degli ornamenti per le armature. Inoltre Bungie ha annunciato che per tutti coloro che giocavano a Destiny nella vecchia generazione potranno passare a current gen ed avere uno sconto sul gioco. Quindi se potete approfittatene immediatamente. Ad ogni modo noi abbiamo anche seguito lo streaming in live sul nostro canale di Twitch. E per i dettagli e le piccolezze vi consiglio di rivedere anche quel video che comunque troverete anche qui sul nostro canale YouTube. Per apprezzare tutti i dettagli che abbiamo potuto notare in video. Questo perché comunque per la maggior parte abbiamo notato qualcosina dalle lunghe partite multiplayer che ci sono state mostrate ma anche da due trailer che mostravano nuove modalità, la nuova modalità arena, un po' del ride, si mostravano qualche set, qualche arma, insomma un po' di tutto, anche dei filmati in computer grafica ad esempio. Ad ogni modo ragazzi io con questo ho concluso, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social network di cui trovate i link in descrizione. Grazie per l'attenzione e alla prossima guardiani. Enjoy!